Lega Pro, il Gubbio affronta il Barbetti domenica a Labinoletti in uno scontro diretto in ottica playoff e diretta radio alle 14.30 su RGM It Radio Serie B. Il Perugia attende al Curi Lentella. Volley Superlega, tre partite in sette giorni per Sir Perugia a caccia del secondo posto in classifica. Si parte domenica sera da Latina. Basket a uno femminile Umberti de Sfida Ragusa. B nazionale va di ceppo pronto per il duello con il Senigallia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva. Seduta pomeridiana per il Gubbio pronto ad ospitare domenica al Barbetti l'Albinoleffe nel 26esimo turno di Girone B della Lega Pro. Una sfida che ha il sapore di playoff con gli Ogubini Sesti e i Lombardi Decimi. Ultima piazza utile per la post-season. Per quanto riguarda la formazione rosso-blu, il tecnico Maggi ha fatto disputare ai suoi una seduta improntata molto sulla tattica, soprattutto sui posizionamenti nelle situazioni di palla inattiva a favore o sfavore. Per quanto si è visto dal campo, il tecnico pesarese dovrebbe sciogliere le ultime riserve. Riguardo al modulo da utilizzare solo domani nella seduta di rifinitura, in ballo la conferma del 3-5-2 ammirato a Padova oppure del 3-4-1-2 che porterebbe Casiraghi ad agire dietro al tandem d'attacco Ferretti e Candellone con Ferri Marini che sembra destinato ad iniziare dalla panchina. Nel caso venga confermata la disposizione tattica di Padova, Ferretti potrebbe agire dietro Candellone con Casiraghi abbassato a mezzala con Romano al centro e il rientrante Valagussa che sembra in vantaggio su Giacomarro, ai lati ancora Calombo e Zanchi. Confermato il trio difensivo Piccini, Marini e Rinaldi che dovrebbe avere la meglio su Burzigotti, nella seduta ha accusato un fastidio il Bebita Vernelle, solo domani Maggi deciderà se convocarlo dunque o meno. Allora vi ricordo che potrete seguire Gubbio Albino Leffe nel consueto appuntamento con Diretta Sport domenica a partire dalle 14.30 su RGMit Radio o sul canale 604 del Digitale Terrestre, oltre che attraverso il live match sul sito www.trgmedia.it e poi lunedì sera alle 21 ovviamente torna il salotto sportivo di fuorigioco. Il 26esimo turno del girone B di Lega Pro si aprirà domani alle 14.30 con l'anticipo tra Venezia e Pordenone, autentico scontro al vertice di giornata. Domenica sempre alle 14.30, Gubbio Albino Leffe e poi anche i match Teramo su Tirol, Bassano Modena, Mantua Padova, Forlì, Feralpi Salò, ancora Sant'Arcangelo e Parma San Benedettese. Alle 18.30 invece il Fano farà visita alla Maceratese e la Reggiana riceverà il Lumezzane. In Serie B scenderà in campo domani alle 15.00 il Perugia pronto a ricevere al Curi Lentella per fortificare la sesta piazza in ottica playoff. 4-3-3 confermato per Bucchi con Brignoli in porta, difesa formata da destra-sinistra da Del Prete e Volta Belmonte che ha recuperato appieno dall'attacco febbrile patito in settimana e dichiara centrocampo con Brighi Dezzi e uno tra Mnaurè o Acampora e Trident d'attacco composto da Mustacchio Guberti è forte. A disposizione anche il portiere Rosati e il centro avanti di Carmine. Reduci entrambi da un lungo stop e probabile impiego a gara in corso per Nicastro, match winner del derby. E allora vi faccio ascoltare uno stralcio della conferenza stampa di Mr. Bucchi. Per me non è difficile motivarli anche perché li ho visti veramente carichissimi. Dalla partita di domenica scorsa come dalla vittoria col Brescia ci dobbiamo portare l'entusiasmo. Quindi la voglia di lavorare con gioia, con passione, divertendoci che credo sia un aspetto fondamentale. Però come hai detto la partita di domani è una partita per noi importantissima, determinante. Potremmo non ovviamente escludere definitivamente ma dare comunque sia un colpo importante alla classifica, allontanare una diretta concorrente. Noi come loro stiamo facendo credo un percorso difficile ma allo stesso tempo bellissimo. Quindi nel voler continuare a sognare dobbiamo superare queste partite alla grande. Quindi gli stimoli non mancano perché è una squadra che vuole continuare a rincorrere un obiettivo come quello nostro. Credo che non possa farsi distrarre dalla vittoria di un derby o da un risultato positivo o negativo che sia. Di Carmine credo che sia pronto magari per un scampolino perché ha ripreso anche lui solo da questa settimana. Però è voglioso e quindi potrebbe essere pronto per qualche minuto. In questo momento inizia un ciclo determinante di partite. È un ciclo lungo perché noi abbiamo ora Lentella, poi andiamo a Ferrara, abbiamo il Frosinone, poi andiamo ad Avellino, andiamo a Cittadella. Insomma ci abbiamo veramente tantissimi scontri. Poi abbiamo Benevento e Carpi quindi sono tantissimi scontri importanti, duri, difficilissimi. In questo momento più che ormai, credo che in questo mese più che mai, abbiamo bisogno del supporto incondizionato dei nostri tifosi, della nostra gente perché in questo momento possono veramente farci fare la differenza. In campo domenica alle 14.30 per la ventiquattresima giornata in Serie D la prima ufficialmente senza il Città di Foligno, escluso in settimana dal campionato dopo la rinuncia di quattro gare consecutiva, trasferta proibitiva all'Aquila per il Città di Castello. Il Tressina riceve la Flaminia mentre il Zensepolcro sarà di scena a Monterosi. Ventiduesima giornata per quanto riguarda invece l'eccellenza con inizio domenica alle 14.30. Per quanto riguarda le sfide di vertice, la capolista Voluntas e Spoleto riceve San Sisto. Il Villa Biagio affronta il Vestrelli e il Petrignano, il Ventinella ospita l'Orte mentre per il Bastia c'è il Massamartana. Duello salvezza tra Gualdo Casacastalla e Lama, l'Angelana di scena a Torgiano mentre la Narnese sfida Castel del Piano. Torna a giocare il Santa Barbara e il Fontanelle Branca pronto ad avvicinare la quota play-off nella gara interna con la Subasio. Chiudiamo con lo sport e passiamo al volley archiviata momentaneamente. La Champions e l'ininfluente sconfitta al tie-break subita mercoledì in casa della formazione belga del Rosler, il Zensefeticon a Perugia ha già ripreso possesso del palevangelisti per preparare al meglio il match di domenica a Latina che darà il via a sette giorni conclusivi della regular season della Superlega. Mercoledì di fatti c'è la trasferta di Milano, domenica 26 la chiusura in casa contro Verona. Sette giorni che saranno decisivi per definire la griglia di play-off scudetto con i bianconeri a caccia del secondo posto. Focale però diviene la sfida di interra laziale con inizio fissato alle 20.30 di domenica. Coach Bernardi riproporrà il sessetto tipico con i ritorni in sessetto di De Cecco e Atanasievic mentre resta in dubbio l'acciaccato Zaitsev. Per quanto riguarda la B maschile di volley, palla a volo Città di Castello dopo la sconfitta di Appignano cerca riscatto nel match casalingo con Pineto Pescara. Per la B1 femminile, Tum Perugia riceva il palevangelisti Castelfranco mentre San Giustino sarà di scena a domicilio di Montale Rangone. Per la B2 femminile, la Newfonte Mori Gubbio incontra Civitanova Marche. Andiamo al basket per la A1 femminile. Palla Canestro Umbertide con la salvezza ormai ipotecata cerca il colpaccio nella gara casalinga con Ragusa una delle formazioni candidate alla vittoria finale del campionato. Per la B nazionale torna a calcare il pala Castellini Sicoma Val di Ceppo il punto allora sul quintetto Ponteggiano lo facciamo nel nostro servizio. Non è bastata una partita offensivamente di primissimo livello a Sicoma Val di Ceppo per espugnare il pala Sassi di Matera nel ventesimo turno del girone D di B nazionale di basket. I ponteggiani di fatti cedono con onore alla Bauer in una partita combattuta e spettacolare terminata 102-92 per i Lucani. Primo tempo super del quintetto di coach Paolo Pierotti che chiudono all'intervallo lungo un punto avanti sul 49-48. Poi nel terzo quarto si scatena la Bauer che costruisce il parziale decisivo di 31-16 che rende inutili i tentativi di rimonta per Ugini nell'ultimo quarto. Per Matera 29 punti di Laudoni, 23 per Cantagalli, 22 per Zampogli e 18 di Lestini. Per Val di Ceppo 27 punti di Panzieri, 17-9 assist per Burini, 14-7 assist per Cassuscelli. La Sicoma è tornata dalla Basilicata comunque con la consapevolezza di aver lasciato alle spalle il lungo periodo negativo. Terminato due settimane orsono con il successo casalingo su Taranto ma ora c'è bisogno di proseguire sulla strada intrapresa perché l'ultima piazza occupata dal duo Monteroni-Venafro è distante due soli punti e domenica alle 18 si torna al Palac Cestellini per sfidare Golden Gas, palla canestro Senigallia, ottava forza del girone a quota 18 punti, reduce da due vittorie filate, ultima delle quali ottenuta contro Campli. Il match d'andata fu una beffa troce per Val di Ceppo, superato in terra marchigiana sulla Sirena per 72-71 al termine di una partita per lunghi tratti dominata dal quintetto perugino. Pericolo numero uno alla Guardia Maggiotto che viaggia a 20 punti e allacciata di scarpe ma anche all'ultimo arrivato Foll, centro proveniente da Verona in A2 in doppia media nelle prime quattro partite giocate. Giaccarini, Caverni, Giampieri e Pierantoni sono gli altri elementi cui la difesa pontegiana dovrà maggiormente limitare e proprio la difesa è uno degli aspetti primari per alzare ulteriormente la sticella. Val di Ceppo ha difatti dimostrato di non aver difficoltà a trovare la via del canestro mentre nella propria metacampo ha sofferto soprattutto alla distanza specialmente la maggior fisicità delle compagini avversarie. L'obiettivo davanti al pubblico amico è quello di fornire una prestazione di livello e centrare due punti che sarebbero vitali. In ottica salvezza. In Cisilver regionale è il turno dell'atteso duello al vertice tra Perugia e Bastia Fratta Umberti invece farà visita a Rieti. Assisi sarà di scena a Todi mentre Gualdo incrocia al Palaluzzi Foligno. Per la serie D il basket Gubbio cerca i blitz sul parquet della capolista atomica Spoleto. Chiudiamo con il braccio di ferro perché domani pomeriggio dalle 16 si svolgeranno al The Village Pub a Gubbio i campionati italiani. Ci sarà anche una rappresentanza tutta eugubina formata dagli atleti di punta Mirko Pierotti e Chiare Acciaio che puntano anche alla partecipazione alle qualificazioni che mettono in palio l'accesso ai prossimi mondiali di settembre in Ungheria. Anche Laura Vantaggi, Justin Pierucci e Camilla Muzzini. Sarà il terzo anno consecutivo che la manifestazione si svolgerà nella città dei Ceri. La gara dunque sarà aperta a chiunque volesse cimentarsi nelle numerose categorie previste in gara. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci scelto. L'informazione ancora vi terrà a accompagnare nel corso di questa serata e poi domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Come detto poi domenica diretta a sport per seguire gli appuntamenti calcistici, lunedì sera dalle 21 il salotto sportivo di fuorigioco. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.